raga finalmente ci rivediamo scusate la faccia ma stavo sul letto che ho fatto dormire dito oggi è 24 e quindi stasera festeggeremo natale sto morendo di freddo ho fatto addormentare il piccino perché andremo come ogni anno da mia suocera con mia mamma e tutti e ci saranno tanti giochi belli che comunque vedrete nel video e mi sono fatto regalo anche per me che vi farò vedere dopo e niente io adesso devo sistemare casa o il tempo contato perché comunque poi dobbiamo andare da mia suocera che dista 15 minuti più o meno da qui e niente io ho tante lavatrici da fare infatti il macello devo sistemare tutto quindi poi mi organizzo e mi organizzo su tutto sistemo casa e poi ci vediamo dopo ciao nicchina ciao nizzina sempre con me direi tutto pulito ancora detersivi in mezzo devo mettere a posto le ultime cose intanto di qui è tutto pulito raga fortunatamente vinto non si è svegliato sono riuscita a fare i servizi sono riuscita a farmi una doccia e a vestirmi mi mancano ovviamente le calze da mettere calza maglia e questo è il vestito che vi ho fatto vedere anche nel precedente video devo dare un aggiustatino ai capelli e va bene così anche il cappotto rosso e quindi poi procediamo io nel frattempo mi metto calza male scarpe preparo bibeo preparo latte sto preparando i trucchi perché comunque mio cognato farà da papà natale quindi lo truccherò un po' per non far rendere conto al bambino che è lo zio e vi riprenderò tutta la scena perché non l'abbiamo mai fatto e quindi la prima volta quindi rientrerà busserà la porta e consegnere i giochi sicuramente sarà emozionante e quindi volevo accompagnarmi volevo e quindi volevo accompagnarvi in questa diciamo prima volta stupenda ci vediamo dopo io nel frattempo mi preparo a scendere no non ti fa niente il cane puoi andare ma mama apri aprilo vedi che c'è dentro Giochiamo! Vito, dal lì l'altro, Vito! Vito, quello! Vito! 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 Perché peccato, perché peccato se il campione lo sapeva... la flusone... Venti la teia viva! Viti! 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 Vito cos'è? Cos'è? La borsa dell'acqua! l'acqua l'acqua prendilo vieni qua prendilo è tuo Vito prendilo prendilo no solo quello non lo vede per essere non lo vede per essere non lo vede per essere si apri il mio anche io no 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 che c'è la nonna non le vai dai dai che poi Babbo Natale porta agli altri dai guarda bello no 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 non si toccano quelli non sono i nostri vediamo cosa è no cosa è no mi zica com'è bello è veramente bellissimo gilet e giubbotti insieme nuovo come quello di papà vediamo non lo vede per essere non lo vede per essere non lo vede per essere no ma no no babbo natale non ti devi prendere paura perché bravo babbo natale non ti devi prendere paura non ti devi prendere paura no no Ettore fa i giochi in live dai fammi vedere dai papà assaggia papà assaggia dai 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 ti prego non l'ha mai assaggiata ci ho voluto bene tu che sei mia madre che dici tre mi ha diarrito povere mamma tre cosa fa doma uno che faccio tu mi conosce non mangia vado non è tarantino fai fai aspetta vai com'è senti il mare in bocca è buono? si pizza non mangia non mangia l'osso che l'ha dato che ti ha dato ma mangia tu non puoi no basta mamma che cosa è? che cosa è? che cosa è? ma chi l'ha portato? è portata e dove stava? che sta scritto? che sta scritto? perdito perdito cosi sta scritto? è il mio aprilo dai dietro dai dietro chi è il mio? apri ma apri 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 ma pesa ti aiuto? no beh riusci a farlo ah ok riusci a farlo grazie amore lo so lascia lo stare apri lascia lo stare vai ma che cos'è? apri apri dai vediamo mi ha pogliato papà hai fatto il drago che te l'ha portato? si si e che cosa è? apri 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 aspetti 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 scusate guarda davanti questa che è... e così qua davanti però aspetti non vuoi che è ciò? aspetti aspetta davanti di qua lascia non ma apri apri uuuu ok vedi 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 ma ti piace così a secco il mostro e non le tette ci vuole la forbice lo voleva vedi si allunga tira vito non lo mettere troppo sopra ma un po più giù in modo che non si vede il naso non si vede tanto col buio mi sto sentendo male però mannaggia di te proprio cosa? è alla pelle scuda vieni qua vai sti chi ti ha più dato? no il letto oh mio dio provi gli occhiali check travessemento check ma fa impressione Romeo ramona fa impressione non fa niente non fa impressione assisteremo un cielo molto particolare no ramona no 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 veramente sembra un film horror cioè gli stanno tirando i capelli tra poco vedremo vito impaurito grazie 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 ciao Allora, andiamo in regolio a Marzia. Regalici ma Marzia? Dali la mano Marzia e Babbo Natale. Vedi Pinto, dà la mano a Babbo Natale. Vedi, vedi il regalo di Marzia che è sfruttato. Questo è di Marzia. Marzia è quella? Guardalo, guardalo lì. Il regalo che è? Vedi, il regalo Marzia. Visto quanto è bello. Papbo, mi dè la mano. Mamma mia, la posso aprire? Dai la mano. Babbo Natale, ci vuole a te la Babbo Natale. Babbo Natale è a te, buono amore. Babbo Natale è bravo. E' bravo. Mi hanno detto che ti sei comportato bene. E quindi a questo bambino devo portare tanti dei regali. Vabbè, adesso tu li porto. Vedi Pinto, regalo Anna tanto, guarda. Guarda, mi hai regalato. Vedi Pinto, quanti regali che c'era? Anna, Anna, Anna. Apri il regalo. Vedi Pinto, vedi. E tu ti sei comportato bene? Sì. Bravo. Tutti i bambini buoni hanno sempre dei miei regali. Visto? Vedi Pinto, vedi. Guarda Marzia. Guarda Marzia che bel regalo appunto. Vedi Pinto, vedi Pinto, vedi Pinto. Ma papà, non è finita poi. Ho, 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 ho. Un altro regalo. Bello. Per Marzia. Ma papà, papà. Visto, un altro regalo per Marzia. E' a Vito? A Vito, c'è questo bustolettino pieno di regali. Ho, 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 ho. Tutto può. Ma Marzia. Che è quello è quello, Martià? Ma no. Che regalo. E' becchia. Stai piando a Vito. Stai piando a Vito. Stai piando a Vito. Papà e la mamma già hanno fatto quello. Stai piando. Beh, ma adesso però tocca a questo bel bambino. Perché come si chiama questo bambino? Vito, Vito, Vito ci chiama. Che bellissimo. E' bello, papà Natalia. E' bello, sì. Si chiama Vito. Ma sentiti un po', ma si è comportato bene a questo bambino. Si, babà, è bravo. Sicuro? Sicuro, sicuro. E ti sei portato? Mi dite tutti quanti che si è comportato bene? Si, si, si. E allora ho un regalo. E cosa gli hai portato? Cos'è portato, babbo Natalia? E dopo, dopo. Vediamo un po', perché ce ne sono tanti anche di altri bambini. Si, si, si. Perché non ha ancora tanti. E' bello, amore, vediamo cosa c'è. Eh? Deve essere bravo, amore. Eccolo buono. Ah, diventa è quello. Prendilo, Vito, prendila. Noi, prendi una camera. Tutto giù. Perché ti sei comportato bene. Te lo metto qui. Eccolo. Oh. Certo, apriamo, Vito, apriamo. E io aspetto. Scusate un attimo, mi devo sedere perché sono un po' stanco. Non vuole proprio sapere niente Vieni che Vago Natale è bravissimo Vieni che si vede una cosa di qua Che cos'è Vieni? Vieni che cos'è? Per regolo te lo sei meritato perché ti sei confortato bello Bravo Vediamo vediamo Vieni che Vieni è bravo E poi aspetta perché io sto un po' stanno Fai giocato a rubini Si sta stancando Si sta stancando Perché è stato lungo Ho fatto tanti giri con la renne Sto venendo dal cielo Ti piace? E sono stanno Io dal cielo vengo con la renne Gli renne stanno aspettando a fuori Dai Mena apri Sì 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 Gli renne stanno aspettando a fuori Per prendere un po' il volo Vediamo l'acqua Con le renne Apri dai Apri Cos'è? 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 Apri apri Non si fida E' diverso proprio da Marzia Cos'è? 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 Ma quanto è grande? Non è bello Vinosauro E' da parte della mamma e di papà Vinosauro Da parte della mamma e di papà Il regolo Da parte della mamma e di papà E l'ha fatto Ma con la te l'ha fatto questo L'ho fatto io Perché la mamma e papà L'ha fatto questo per te Abbraccio Vieni quanto è bello Cos'è secondo te? Cos'è secondo te? Un binopo Un binopo Non lo so Non l'ho mai vista così No il pantalone deve alzare Deve alzare il pantalone Deve alzare il pantalone E c'è più E c'è più perdito Aspetta Aspetta Minchia Premo Vedi Ramona Vedi Di papà Natale Meti le gari Dimamore Mamma Eccolo Le la mano Aspetta Vatti cinque Vatti cinque A papà Natale Vatti cinque Così Come la nostra Come dà? Vatti cinque Vatti cinque Io Vatti cinque Anna Vatti cinque Vai Anche tu Vatti cinque Vatti Anche tu I tassi anzi! I tassi anzi! Ti piace? Sì! Mi comevo di potenzio! Un'elmo, un'elmo! Mi do un'elmo! Vada a pelle, vada a pelle, vada a pelle! Mi sono un uomo nessun braccio! Questo fu un scu! Se ne è un'elmo, va per lui! Da parte è una marzo! Da parte è a Vito! A Vito! A Vito! Da parte mia è di Vincenzo! E dammela a me! Da parte mia è tua! A Marzo! Ah ok ok! E' una cosa! Scusate! Scusate! Sei da Papo Natale? Mi confermate che si è comportato bene questo bambino? Però è un'elmo! E' un'elmo! Aaaaaaah! Raffaele, Raffaele, Raffaele! Raffaele, Raffaele! Grazie! Dammi! 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 Scarta Vito! Vizzi, 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 vizzi! Aiuto! Scarta! Cos'è, Raffaele? Cos'è, Raffaele? Cos'è, Raffaele? Cos'è, Raffaele? Cos'è, Raffaele? La palla! Con la faccia! La palla, Raffaele! Questo è la porta di un ciotico da uno! La palla pazza, Raffaele! Hai visto, papà, quanti regali? Hai visto? Dì, non c'è niente più! Dì, non c'è niente più! Dì, papà, non c'è niente più! Papà, non c'è niente più! Papà, non c'è niente più! Aspetta, vediamo cosa c'è qui! Allora, vieni qua! Vieni qua! No, no, no! No, no, no! Ma c'è la massaccia! Ma c'è la massaccia! Ma c'è la massaccia! E' la massaccia! Ecco! Eh... Da partendo... Adesso te lo voglio chiedere! Ti sei comportato bene? Non le faccio rossa! Prendi non tu, regali! Pos & Jegami... I違う! Dai, insieme! Vai! La misura è davvero il tuo bambino? Chi è, papà? Chi è? Cos'è? Chi è? Persona! È un esempio! Dio Papa! Chi è un tusho? Cosa è? Beh,η nhai, lei. Elio padove, cose... E questo qui è da parte della mamma e di papà Scusa Ramone, li chiamiamo il nome e mettiamo Giorgio Catorgio per piacere Hai capito? Questo è da parte della mamma e di papà Oh, girati di qua Senti, aspetta, 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 aspetta Aspetta un attimo, farlo io adesso Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Abbraccio, abbraccio, abbraccio Abbraccio, bravo Abbraccio Perché è bravo E' finito, non c'è più niente Aspetta, come si ricorda? Vito, ma che stai aspettando? No, no, aspetta un attimo Aspetta Aspetta Senti, andate un attimo Allora, adesso ti voglio fare un'ultima volta la domanda Ti voglio chiedere una cosa importante Allora, scusate adesso Adesso tu mi devi chiamare, mi devi dire una cosa Come ti chiami, hai detto? Come ti chiami? Vito Vieni qua, rispondi Che cosa vuoi da me? Vuoi bene a papà e la mamma? Sì Sì Vuoi bene a nonni? Vuoi bene a nonni? Ma chiamolo a mamma Vito, vuoi bene a nonni? Sì Aspetta Alice, vuoi bene Alice? Sì, sì Bravo E dimmi un po', ti sei comportato bene? Sì E allora c'è un ultimo regalo Un ultimo regalo speciale per te Vito, un regalo Vito, un regalo Vito, un regalo Vito, vedi, vedi Secondo te cos'è? Aspetta, rompe, cos'è secondo te? Un regalo E cos'è? Questo è un ultimo regalo speciale Indovine, cos'è? Questo è da parte di nonna Patti e di zio Romeo E secondo te? E cos'è? Vediamo, indovine, cos'è? Poi indovine Indovine, cos'è? E grida, grida, cos'è? No, lo devo Spero, aspetta Lo devi dire lui Avrilo tu Avrilo, vai Lo scoprirai da su Vai, lo scoprirai da su Vai, lo scoprirai da su Vai, lo scoprirai da su Voi, lo scoprirai Vai, vai Vai Aspetta E' sì E' sì E' sì E' sì E' sì E' sì Natalena! Natalena! Siediti Vito! Siediti! Ma donna! Madonna! Bella! Ti piace? La volevi? Dai un abbraccio a Bobonatola Abbraccialo No 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 è normale Aspetta Aspetta Si muove Guarda Vito Guarda che fa Entra dentro Chi si sta?